Io non sono qui a cercare una poltroncina per un amico. Cara Barbara. No, secondo me ha fatto un errore. Allora sai, ho un guacquara qua. E' colpa anche questa di conto. Prego applausi. Eh, così ne sia. Noi abbiamo un pool di esperti. Lei si è portato a casa 60 milioni di dollari. Good morning Vietnam! Buonasera amici di Primo Canale, ben ritrovati a Good Morning Vietnam, la mia personalissima rassegna stampa settimanale. Ormai ho invaso alla grande Primo Canale. Partiamo subito. Non sentite già il Natale nell'aria? Dai che ci siamo! Ve lo dico subito, sarà tutto diverso. Niente cenoni, niente pranzoni, niente cenoni e pranzoni di avanzoni. E anche Gesù nascerà due ore prima. Gioite tutti, Gesù è nato e tanti auguri al consigliere delegato. A Pasqua deve morire e risorgere in 12 ore, se no non se ne fa nulla. E comunque una cosa è certa. Niente sci da noi. Perché in Svizzera invece gli impianti di risalite e le piste saranno apertissimi. Notizia piccante di cronaca. A Bruxelles festino hot in un bar, in barba alle restrizioni per il covid. Sesso, alcol e droga. Sì, ho capito, ma che notizia è? Fra i partecipanti, un europarlamentare ungherese ultraconservatore vicino a Orban. Che Orban ha detto, sì, ma quanto vicino? Cioè, con calma. Intanto è partita una sorta di gara fra le case farmaceutiche per il vaccino. Qual è il migliore? Nemmeno il prof Bassetti ha la risposta. Non ci ha capito niente. Sport, Stefani Frappar è la prima arbitro donna in Champions League. Arbitrerà Juventus-Dinamo Chier. La Juventus ha già cambiato l'inno. Al via oggi la lotteria degli scontrini fiscali. Niente male per un governo che aveva proposto una stretta sul gioco d'azzardo. Di questo passo entreremo in un negozio e succederà più o meno questo. Dica un numero. Sette! Ha perso, sono 20 euro. Lo so, a questo punto dovrei parlare anche di Maradona. Ma, però, sinceramente, è meglio far parlare le immagini. Finisce qui anche questa, che è la decima puntata di Good Morning Vietnam sul primo canale. Mi raccomando, ci vediamo la settimana prossima. Preparatevi al Natale. Fate i vostri acquisti. Indossando sempre la vostra mascherina, che vi dona più carisma e asintomatico mistero. Grazie a tutti.